Perché questo progetto può funzionare? Funziona perché è l'alternativa vera ad un sistema che Renzi sta costruendo dall'altra parte della barricata e che non corrisponde più assolutamente né al sentire degli italiani, né a delle preoccupazioni nuove come l'immigrazione o come l'euro, né a riscoperta di valori che sono in tutti noi come quello della famiglia che invece riproponiamo. Lei ha girato in lungo e in largo tutto il centro e il sud dell'Italia. Chi sono? Quali sono le persone che aderiscono a questo progetto? Aderiscono tantissimi giovani e questo fa sempre piacere in un momento in cui sembrava che la politica non interessasse più le nuove generazioni, associazionismo di categoria, associazionismo delle forze di polizia, persone che vengono dal volontariato, qualcuno che ha fatto politica onestamente, ovviamente verificheremo, ma chi ci sta in un certo modo fa solo piacere, ma soprattutto c'è la gente, è la gente che ti ferma per strada e dice che abbiamo voglia di cambiare. Quando c'è la gente che ha voglia di cambiare le rivoluzioni si fanno. Cosa dicono di Matteo? Che cosa dicono della Lega? Che è il nuovo, che non è più questo sistema della politica della Roma ladrona, né quella della città derubata, né quella dei territori depauperati, né quella delle regioni assolutamente impoverite dall'incapacità di alcuni amministratori. E questo è quello che vuole la gente.